Nella giornata dedicata a Lazio, Bersani prima incontra i lavoratori di un'azienda che sono in cassa integrazione dal 2005, poi risponde direttamente a Berlusconi. Non dialoga con la sinistra perché è estremista? In 22 mesi ha messo 22 fiducia e varato 58 decreti. È lui che non parla, neppure con la sua maggioranza. E Bersani ripete, al centro del confronto deve tornare la crisi economica perché le orecchie del governo sono rivolte verso un'altra parte, verso una parte che la crisi non la sente. Se davvero intendesse mai avere un confronto su come fare per esempio un piano anticrisi con un pacchetto di investimenti che diano un po' di lavoro, subito io vado anche a... vado a...